È uno di quegli incroci di fronte ai quali è facile confondersi, imboccando la strada sbagliata. E quando lo si scopre, è già passato un anno, durante il quale i ragazzi e le loro famiglie hanno già investito soldi. La scelta della facoltà più adatta a uno studente che ha appena finito le superiori è diventata un elemento strategico per il mondo universitario. C'è bisogno di laureati, immessi prima possibile nel mercato del lavoro, meglio non perdere tempo. Io penso che la scelta del corso di studi giusto, la scelta se affrontare l'università o meno, sia oggi uno dei grossi problemi che ha l'Italia. L'Italia non riesce ad avere il numero di laureati che hanno gli altri paesi industrializzati. L'attività di orientamento dell'Università di Cassino è stata potenziata durante gli ultimi anni. L'Università di Cassino fa il massimo sforzo in questo, ad esempio il 9 marzo, il 10 ci saranno presso il polo della Folcara delle giornate di orientamento aperte alle scuole, proprio per aiutare i ragazzi in una scelta complicata, oggettivamente complicata. L'obiettivo è prevenire il disorientamento e la delusione dei ragazzi. Le statistiche nazionali dicono che in media uno studente su cinque abbandona gli studi dopo il primo anno. Un rapporto sullo stato dell'università realizzato dal Comitato Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario dice che il tasso di abbandono è leggermente in calo, ma resta ancora molto, troppo alto. Il numero di ragazzi che abbandona dopo un anno è ancora dell'ordine del 20%. Sono costi umani ed economici che non possiamo permetterci.